Capitolo 29 Lo udì rincasare. Penso che lo sentì tutta la casa, a parteggere Maya che non si svegliava neppure con le cannonate. Conrad si fece strada per le scale, inciampando e imprecando, e poi richiuse la porta di camera sua e accese lo stereo, ad alto volume. Erano le tre del mattino. Io rimasi a letto per qualche secondo prima di saltare in piedi e correre lungo il corridoio fino alla sua stanza. Bussai, due volte, ma la musica era così alta che dubitai che Conrad potesse sentire. Apri la porta. Era seduto sul bordo del letto, intento a togliersi le scarpe, sollevò lo sguardo e mi vide. «Tua madre non ti ha insegnato a bussare?» mi chiese, alzandosi e abbassando lo stereo. «Sì, ma la musica era così alta che non mi hai sentita. Mi sa che hai svegliato tutta la casa, Conrad». Entrai nella stanza e chiusi la porta alle mie spalle. Era da tanto tempo che non entravo in camera sua. Era come la ricordavo, perfettamente in ordine. In quella di Jeremiah pareva ci fosse passato un uragano, mentre in quella di Conrad c'era un posto per ogni cosa e tutto era al proprio posto. I suoi disegni a matita ancora attaccati alla bacheca, i suoi modellini di auto ancora allineati sul cassettone. Era confortante vedere che almeno quello non era cambiato. Conrad aveva i capelli arruffati, come se qualcuno ci avesse passato le mani. Probabilmente la ragazza con il cappellino dei Red Sox. «Hai intenzione di spifferare tutto, belli? Sei ancora una spia?» Io lo ignorai e andai alla sua scrivania. Appesa al muro, c'era una foto incorniciata di lui con la divisa di football, la palla infilata sotto al braccio. «Senti, ma perché hai smesso di giocare?» «Non mi divertivo più. Credevo ti piacesse». «No, piaceva mio padre». «Mi pareva che piacesse anche a te». Nella foto era serio, ma si vedeva che si sforzava di non ridere. «E tu perché hai smesso di ballare?» Mi voltai a guardarlo. Si stava sbottonando la camicia bianca da lavoro, sotto la quale aveva una maglietta. «Te ne ricordi? Un tempo ballavi per tutta la casa come una gnometta». Io lo guardai con gli occhi socchiusi. «Gli gnomi non ballano. Io ero una ballerina, per tua informazione». Conrad fece un sorriso compiaciuto. «Allora, perché hai smesso?» Era successo nel periodo del divorzio dei miei genitori. Mia madre non ce la faceva da sola ad accompagnarmi e venirmi a prendere due volte a settimana. Lavorava e poi pensavo che non ne valesse più la pena. Avevo già cominciato ad annoiarmi e neppure Taylor veniva più a danza. Infine, non sopportavo di vedermi in body. Mi era cresciuto il seno prima che alle altre ragazze del corso e nella foto di gruppo sembravo la loro insegnante. Era imbarazzante. Non risposi alla domanda. Invece dissi. «Ero davvero brava. A quest'ora avrei potuto essere in una compagnia». Non era vero. Non ero poi così brava, neppure per sogno. «Certo», rispose lui con tono beffardo. Sembrava così compiaciuto seduto su quel letto. «Se non altro io so ballare!» «Ehi, anch'io so ballare!» protestò lui. Incrociai le braccia. «Dimostramelo! Non ho bisogno di dimostrartelo. Sono stato io a insegnarti qualche passo, ricordi? Ah, quanto è labile la memoria!» Conrad saltò su dal letto, mi afferrò per una mano e mi fece pirouettare. «Vedi? Stiamo ballando!» Mi teneva il braccio attorno alla vita e rideva prima di lasciarmi andare. «Io ballo meglio di te, Belli!» disse collassando sul letto. Lo fissai. Non riuscivo a capirlo. Un attimo prima era malinconico e assente. Quello dopo rideva e mi faceva pirouettare per la stanza. «Non mi pare che questo si possa definire un balletto!» risposi, uscendo dalla camera. «E poi puoi abbassare la musica? Hai già svegliato tutti!» Sorrise. Conrad ti guardava in un modo che faceva crollare tutto quanto e ti spingeva a cadere ai suoi piedi. Mi disse «Certo, buonanotte, Bels!» Bels, il soprannome che avevo mille anni prima. Era impossibile non amare Conrad. Quando era dolce in quel modo, ricordavo perché lo amassi. Voglio dire, perché lo avessi amato. Ricordavo tutto.